Buongiorno. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike's Showshack. Come sapete purtroppo la live di ieri è stata bloccata in tutto il mondo Capisco perché tutti vanno su Twitch. E' un peccato perché ci siamo divertiti un sacco, abbiamo trovato cose incredibili, abbiamo pure parlato di tante cose E quindi ho pensato per dare opportunità anche a tutti quelli che non hanno seguito la live in un giorno comunque di festa Almeno di salvare il pack opening. Allora aspettate abbiamo sculato tantissimo e poi ci sono stati momenti veramente Cioè che in live abbiamo creato delle meme clamorose quindi ragazzi volevo salvarle visto che il video è poi bloccato Quindi ragazzi vi lascio a qualche estratto della live e domani vi giuro che vi metto l'icon quindi vi lascio al video Ciao A Gogeta Vabbè allora ragazzi lo dedico a tutti voi che siete qui oggi invece di fare l'albero Per voi che siete tutti qui in live Oggi si fa la storia 3, 2, 1 Sì scusa 3, 2, 1 se non metto sì 3, 2, 1 Ragazzi Dopo l'icon di ieri Oggi Ne arriva un'altra Basta non guardare Oh per favore FIFA se ci sei Regà 99% deve essere Barretta Quindi se non è Barretta io ve lo giuro spengo qua la live Vado 3 3, 2, 1 Uuuu ma chi è questo qua Dabur Oh ragazzi c'è solamente il 7,9% di trovare uno di questi qua Dabur Questo è dell'Europa League Però queste non sono quelle dinamiche no Cioè queste qua non si aggiornano Quindi che cacchio ci faccio con Dabur Uuuu Marcolino Mafia Royce Così Ma me lo dai così Marcolino Mafia Royce Top ragazzi Oh pazzo abbiamo iniziato bene questo pacchetto Dai 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 Ci sta ci sta ci sta Allora che tira ci sta Marcolino Mafia Royce Vabbè adesso ragazzi guarda i prezzi dei giocatori è inutile Perché come vedete c'è il crash Dovuto a questi pacchetti Però Dabur come vedete ragazzi è doppione Non vi voglio fare spoiler Però vabbè questo in realtà è uno spoiler Vado eh ragazzi senza guardare 3, 2, 1 Per voi Non voglio guardare Ovviamente stiamo con un delay talmente tanto alto Che non scopriremo mai Quanto Quanto arriveremo Cioè nel senso Lo scoprirò più meglio di voi 3, 2 Vado Oddio ragazzi un altro Vabbè che cacchio è Siganon Sigan Sigancov Oh però ragazzi dai Vabbè 82 99% di trovare 82 più Tu che trovi 82 Sta schifo Che Europa League maledetta Vabbè Speriamo che dentro ragazzi Mi dà una sorpresa 3, 2, 1 3, 2, 1 Si è golfato Oh Eccoli ragazzi Ramirez Ecco Prima diceva Sampdoria Ecco Ramirez La casette Lucas Leiva Un culo eh Quasi eh Ma perché abbiamo trovato questi due Perché sennò sto pacchetto era da un culo eh ragazzi Mamma mia Non se lo compra manco lui stesso Cioè lui stesso Gioca a FIFA Ma lui non si compra Allora ricordiamoci sempre 9,5 Possibilità di trovare Un giocatore dell'Europa League Che non vogliamo 1,9 Eh Champions League Che vogliamo solamente se sono Di Bala Neymar Messi Di De Gea pure vorrei E qualcun altro forte che vale un botto Altrimenti vogliamo un 90 più Per favore 3, 2, 1 Senza guardare Forza Anzi me lo guardo questo Mamma mia Oggi Ah mi sono fatto male con l'anello E non è manco un walkout Perfetto ragazzi Evviva Evviva Cioè Ragazzi avevamo l'1% di possibilità Sono tra il Tra lo sbigottito E Veramente Non so che dire Se questo pacchetto non puzzava di merda Vi dovete dire voi Che cavolo è Cioè regà 84 84 Un pacchetto a 125.000 Io non ho parole Guarda Guarda Ce l'è No regà Io spero che gli 8 doppioni Siano tutti if Guarda No impossibile che siano if Gumis Almiron City B Eder Cucca Regà Cucca Ma ve lo ricordate Cucca David Neres A che A che Ma che No regà Mi sta a venire la depressione Guarda Adesso Si vede La differenza Tra gli uomini E i ragazzini Mamma mia Ragazzi Se troviamo un cavolo Un banco qua Vado Non lo voglio guardare Oh mio dio Ragazzi Ho una paura Incredibile Dai Sul drop Per favore 3 2 1 Vado Ma è una meme Scusate È una meme questa No perché Me lo state facendo apposta Lo state facendo apposta Questa è una meme Questa è una meme Che verrà raccontata Useless Douglas Costa Meno male che non l'ho visto Perché davvero Se pensavo che poteva essere Neymar Mi ammazzavo Non ci posso credere mai Guarda Vabbè però Almeno vale qualcosa Useless Io Non voglio mollare qui Perché dopo un pacchetto di merda Ne deve uscire uno Buono Popolo della terra Donatemi la vostra energia Vado Walk out No manco walk out Ragazzi Questi Erano 20 euro 20 euro 20 euro che se ne andavano così Che se ne sono andati No 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 20 euro che se ne sono andati così Ragazzi Ziyech Joao Mutigno Nascio Monreal Rafa Meyer Mario Rui 78 Con il drop Spero che sia almeno un walk out Ragazzi Perché se non è un walk out Madonna Oh Questo è buono Madonna che carta Oh regà Europa League L'ho trovata tutte L'ho trovata tutte L'Europa League Vabbè Me lo prendo Me lo prendo Cioè gli ultimi due pacchetti L'hanno fatto schifo Non so se se lo comprerà qualcuno Sinceramente No regà La lista di sferimenti è piena E mo che famo Speriamo che non siano Doppioni ignoranti Eh A chi lo dedico sto pacchetto Fatemi vedere un po' Se non è veramente Guarda secondo me È uno dello Shaktar Donetsk Senza dubbio 3 2 1 Oh Regà io faccio solo live Oh Io faccio solo live Oh Io faccio solo live Ragazzi No non l'avete visto Che imbecille Non l'avete visto È vero Non ho cambiato la cosa Fermi tutti Che imbecille Non l'ho cambiata No vabbè Che fail incredibile Che fail incredibile Non l'avete visto Ma che fail incredibile Ma che sta stupido Che cringe Non si vede Non si vede Non si vede Eh 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 Se sta stupido Se sta stupido Ma chiedo scusa Ma chiedo scusa Vabbè però Urra chi dice Champions League Tanta roba no Che dite Oggi ho sculato tantissimo Sono due giorni che sculo A manetta Il pollo ma la polla Il passerò la passerà Ma tutti quanti amano Mike Mike Shusha Tutti quanti amano Mike Shusha